ciao guardate un po ce l'abbiamo fatta dopo mille milioni di giorni che abbiamo preso il magazine di miraculous ladybug allora questo magazine è uscito il 15 settembre in edicola noi siamo andati prima due giorni prima abbiamo chiesto se ci mettevano da parte questo magazine ma nella nostra edicola non l'hanno portato mai quindi il 15 no il 16 no il 17 no oggi abbiamo deciso di andare in altre edicole abbiamo andato siamo andati in un edicola e che ha detto ma è finito è finito è uscito una settimana fa e il mio allora siamo andati in altre edicole alla fine alla 128esima edicola l'abbiamo trovato che ha detto ciao ragazzi che io avevo detto questo buongiorno signore per caso ce l'hai il magazine di bingo trovato il magazine di bingo perché mentre lo diceva l'ha visto visto e quindi da oggi in poi questo si chiamerà miraculous bingo bene lo andiamo ad aprire prima di andare ad aprire la vi fa vedere dietro la copertina che c'è perché vi spiega anche che gadget ci saranno nei prossimi numeri la maschera che è bellissima il prossimo mese c'è la maschera che mi sembra molto molto indicata poi c'è un smartphone con la cover con la coverina bellissimo e poi c'è un set di anelli che non sembrano molto molto di di bug che sono dei cuoricini rossi e delle gemme nere però beh carino però sono carine 3 4 5 6 7 8 9 10 quindi dovete avere un anello per ogni dito però potrebbe essere carino forse per fare gli anelli dell'amicizia quindi magari se una lo compra si tiene due anelli e poi gli altri otto l'italia minchè perché 10 anelli subicidi apriamo apriamo vai 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 certo allora vediamo cosa ci troviamo questo è un magazine della famiglia finalmente dopo mesi e mesi che insomma serviva qualcosa in edicola di ladybug finalmente ce l'abbiamo fatta c'è un gadget è molto carino cioè lo yoyo cioè la colla la la fai vedere la colla bella e la colla gelatinosa allora c'è anche qua e anche anche la bustina c'è scritto io io di ladybug che è veramente utile e vediamo dentro com'è e dentro lo yoyo è uno yoyo a forma di yoyo con la cordicella proprio come quella degli yoyo aspetta che la corda è finita dentro quindi lo diamo un attimo si può pure fare con le forbici così aspetta c'è uno spillino aspetta che c'è uno spillo un aghino piccolo aspetta così ok l'ho fatto ecco qui questo è lo yoyo bello molto molto carino devo che il filo era nero no hanno fatto bianco ecco vabbè ti va bene lo stesso penso ok sul sullo yoyo c'è scritto miraculous e c'è appunto allora andiamo avanti cosa c'è qui cornice per le tue foto a che carina questa cosa anche quindi anche il cartonato il cartoncino del blister no 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 dietro c'è quello che ho visto prima si può ritagliare e metterci una foto vabbè uno su mettere dei disegni qualcosa poi novità bla 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 lo yoyo ok andiamo ad aprirci giornalino ragazzi guardate le ricette di tom e sabrina di marinetta che tom e sabrina sono i genitori di marinetta allora indaga con ladybug e chanoir fumetto inedito le storie di ladybug e chanoir e questa storia è tempestosa ok allora qui c'è il sommario qui c'è la cucina di il soy luna scusate quando la fa u allora che cosa c'è gioca con miraculous ah fa vedere forse uno dei giochi presenta tipo un po tipo quello che facciamo noi no magari anche loro faranno un unboxing sul magazine allora ladybug e chanoir due eroi complementari ok bla 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 il loro scopo proteggere i pareggi dalle acuma farfalle malefiche che trasformano le persone e che nutrono sentimenti negativi in super cattivi ecco chi è papion gabriel agresto ah qui legge questa cosa scusatemi lara io ti leggo una cosa vediamo se tu noti qualche cosa di strano adrian è davvero affascinante marinetta non lo negherà di certo quando si trasforma in chanoir diventa l'ammaliatore dei magnifici occhi della sua lady poiché se è vero che adrian ama marinette è vero lui invece è completamente pazzo di ladybug eh ma che hanno scritto qua no mamma è veramente che adrian ama marinette non è marinette che ama adrian no sono tutti e due che si amano ma se sembra un po strana e certo invece che amica ladybug innamorato di ladybug marinetta mica esatto che sono invertito cioè hanno detto che praticamente adrian ama marinette se è vero lui invece completamente c'è c'è da capire qualcosa vabbè guardate gabriel agresto con gli occhi da sfida vive con suo padre gabriel agresto poi ci sono sempre delle teorie noi ogni volta che mettiamo qualcosa su ladybug voi ci scrivete ah che gabriel agresto è papillon chissà 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 secondo me no lo è no ragazzi lo è lara dice sì io dico no sapete perché perché è papillon che si accumizza da solo nella stagione 2 e torna gabriel agresto mmm ma difficile boh vabbè e veniamo al fumetto eccolo qua questo qui è il fumetto di 16 pagine eh i disegni sono di giulia adragna che è una disegnatrice fantastica io trovo che abbia fatto veramente un lavoro fantastico c'è un'immagine che adesso vi farò vedere io già l'ho vista in anteprima nei giorni scorsi tramite social e mi piace da morire che è questa io adoro adoro questo disegno mi fa impazzire e anche io io cerco sempre di disegnare questa e questo ma qui è fantastica è troppo bella è veramente spettacolare bellissimo bravissima giulia sono veramente ammaliata da questi disegni ciao che vola fantastico bellissimo perché lei ora che faccia che faccina che favola è bellissimo come dire tieni sparisci gattino più e vola regina di ghiacci esatto che bella pure questa immagine non vi dico troppo wow guarda quanti cuori che bella ok andiamo avanti che altro abbiamo cattivone cattivaccio io gli ho iato in testa un'armata speciale super cattivi al servizio di uno solo papillon super poteri bla 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 il suo unico scopo è quello di fare il cattivone oh guardate un po qui vi spiega come disegnare plug quindi ecco qua mi macchia nera una matita una penna appena una gomma e tutto quello che vi serve per imparare a disegnare plug magari ti puoi allenare anche tu felici ma vabbè poi lara ci si ci metterà qui c'è questo bellissimo chanuar molto palestrato noi diciamo sempre che è molto manzo e qui c'è allora che altro c'è lara unisci puntini unisci puntini lara adora unire i puntini e qui c'è un altro enigma sì dopo 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 allora quando vedi unisci puntini non ci capisci più niente ok poi cerca e trova ah bella questa cosa nella lista dei cattivi della capitale al momento e li riconosci nell'immagine ci sono dei cattivi tempestosa qui lo spara bolle sì è bello questo gioco guarda qui c'è qualcos'altro bello 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 mi piace poi abbiamo da trovare delle ombre insomma ci sono dei giochi da fare carino molto bellino è impostato molto bene come giornalino non è si lascia tempo per giocare qui mi sa che c'è qualcosa da ritagliare no sbaglio che cos'è è da ritagliare e mi sa vedi ci sono da ritagliare di qua e di qua scopo del gioco è indovinare quale personaggio misterioso ha scelto l'altro giocatore ah praticamente tipo io tengo questa parte qua tu tieni questa parte qua io scelgo un personaggio tu scegli un personaggio e poi io ti faccio delle domande per esempio se tu hai scelto chloe io dirò maschio femmina e tu mi dirai è femmina così io so che non sono già i ragazzi allora ti dirò hai capelli rossi tu mi fai no e capelli neri no hai capelli biondi no e chloe sì ecco così funziona il gioco carino un po' un indovina chi qui infatti hanno fatto una cosa fantastica cioè hanno messo una pagina inutile da questa parte perché così no perché se tu ritagli questo qua non rovini niente del magazine in alcuni giornali invece tu devi squartare una storia per fare un gioco invece in questo caso no è certo timida o intrepida qui c'è un test lo vogliamo fare? sì ladybug non ha mai paura di nulla o quasi ma marinette è un altro paio di maniche e tu sei estroversa come la super eroina o tendi ad arrossire facilmente domanda numero 1 saluti un tuo compagno di classe nell'atrio a ricreazione ma non ti ha sentita abbassi la testa sulle spalle e prosegui dritto alzi la testa e prosegui dritto gli dai un colpetto amichevole sulle spalle e prosegui che cosa fai? di che cosa queste due? tu saluti un tuo compagno lui non ti ha sentita che fai? te ne vai? prosegui timidamente? prosegui normalmente oppure gli dai un colpetto sulla spalla e vai avanti? gli dai un colpetto sulla spalla e... gli dai un cazzotto perché non mi hai salutato? esatto no faccio così quindi fucsia domanda numero 2 dal panettiere è il vostro turno ma tua mamma è al telefono aspetti che tua mamma termini la conversazione e ti guardi in giro fai segno alla persona dietro di te affinché prenda il vostro posto chiedi tu il pane che fai tu? da che cosa? buongiorno fai il pane l'ara di me scavalca e va lei a fare il pane e lo vende lei va bene questo testo lo faremo in un altro momento perché guarda qui c'è un progetto creativo crea una pochetta di stoffa per realizzare questo lavoro è necessario l'aiuto di un adulto certo se no mi tagliate allora questa pochetta è molto facile cosa serve? una stoffina, il nastrino, il filo per cucire bla 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 ti spiega come tagliarla, come stirarla esatto come cucirla eccetera eccetera e basta poi mettere il lacettino bella, carina mi piace e poi qui invece c'è una ricettina visto appunto il papà di Marinette ha una boulangerie una pasticceria, un panificio allora ecco qui una ricettina per fare qualcosa burro, uova, farina, mandorle bla 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 ti spiega come fare un bel dolcetto e qui c'è una pubblicità sugli emoji carina guarda un po' adesivi e poi i braccialini questo è pucciosino è piccolana con tre ciondoli si questo è carino e poi qui che altro c'è? ah speciale fashion and beauty fashion and beauty avete partecipato numerose al gioco lanciato su questo speciale magazine in edicola lo scorso giugno ecco questa cosa ecco a giugno nei mesi scorsi vedevo che qualcuno nei commenti mi scriveva io ho il magazine e noi quel magazine non lo abbiamo trovato in edicola anche se l'abbiamo cercato devo dire e quindi beate voi che l'avete avuto e quindi chi ha preso il numero per stare al numero zero probabilmente chi ha preso quello ha fatto il concorso ed era bisognava mandare dei disegni e questi qua sono i disegni che sono stati pubblicati ufficialmente carina la nostra picci picci allora ecco le lettrici scelte dalla redazione di Ladybug che riceveranno fantastici prodotti che bello e queste cose le ho anche io al negozio alcune di queste sì alcune cose di queste questa marca qui e la tratto anch'io bello quindi le ragazze che hanno partecipato a questo gioco si beccheranno un bel un bel regalo di Ladybug mi sembra un'ottima iniziativa perché a volte molti giornali pubblicano i disegnini ma non ti danno niente invece questi sono proprio dei bei regaloni bello ma questo che cosa è impressica? sembrerebbe un Lucky Charm yo-yo con i trucchi questo si richiude tutto ah è bello eh bellissimo è una truce di trucchi questo è veramente super io per una volta voglio provare a fare un disegno eh una volta proveremo a fare un disegno lo spediamo e vediamo se te lo pubblicano che dici? allora vediamo un po' te lo sei perso? don't worry dice guardate qua te lo sei perso don't worry che vuol dire? non lo so non preoccuparti vai a pagina 32 e gioca ancora con noi bello fatelo tutti allora invece qua c'è la soluzione dei giochi e a pagina 32 ecco qui come giocare allora gioca con Ladybug ti piacerebbe ricevere il regalo uno di questi bellissimi prodotti? certo disegna il tuo personaggio preferito ritaglia e spedisce l'indirizzo indicato bla 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 i cinque disegni che loro sceglieranno saranno ritenuti bla 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 e vinceranno uno di questi bellissimi regali bello mi piace molto ci proviamo? sì io lo farò vai fatelo anche voi io disegnerò io disegnerò Ladybug, Seanore, Tic e Plug tutti no tutti tra le Chloe perché è un vostro cattivo una Chloe vabbè allora qui c'è un'altra pubblicità bla 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 su un altro giornalino e questo è il finale con questa bellissima tenera immagine bello tra i due c'è un'intesa innamorati eh sì dai c'è un'intesa cuoricino 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 anzi però questa foto è un po' strana perché in effetti se se Adrion guardasse così Marinette lei come sarebbe? ahhh impazzita svenuta con la tachicardia eccetera bene questo magazine finalmente ce l'abbiamo fatta ad averlo e lo yo yo è molto molto carino ehm aspettate che lo trovi se non riuscite a trovare questo magazine ridicolo e non avete lo yo yo presto faremo tra i nostri tutorial uno yo yo personalizzato quindi faremo un tutorial di come far diventare di Marinette di Ladybug uno yo yo normale bene vi salutiamo un bacio a tutti quanti ci vediamo al prossimo video rimanete con noi iscrivetevi mettete mi piace azionate la notifica grazie grazie tantissimo soprattutto grazie perché il video della Pinipon che diventava Ladybug è stato guardatissimo sono molto molto contenta dei vostri commenti di come ci ringraziate della compagnia che vi facciamo sono felicissima un bacio a tutti quanti ciao ciao